Si è svolto nella giornata di ieri l'Open Day organizzato dalla Civica Filarmonica di Modica, un'iniziativa organizzata dall'Associazione Musicale che ha aperto le porte alla città per dare possibilità a quanti intendono intraprendere un percorso di studi nella banda musicale di conoscere le attività della Civica Filarmonica e le potenzialità. Con le sue tre divisioni, la Civica Filarmonica di Modica rappresenta la più grande realtà musicale della città modicana. Un laboratorio sempre in movimento che promuove la cultura della buona musica, con concerti, eventi musicali e didattica gratuita, come ha spiegato il presidente dell'Associazione. Abbiamo voluto sfruttare questa giornata proprio per promuovere le nostre attività culturali, le nostre attività musicali che sicuramente danno lustro alla nostra città. Ci danno la possibilità, con questo Open Day abbiamo avuto la possibilità appunto di portare fuori quelle che sono le nostre attività culturali per far conoscere alla cittadinanza appunto le attività che svolgiamo. È un modo anche per coinvolgere con i quali volessero intraprendere questo percorso formativo, culturale, che li porterà a suonare uno strumento e poter essere inseriti in questa nostra Civica Filarmonica di Modica. Filarmonica Filarmonica